Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR allora, volevo chiedervi un attimo, scusa, clemenza per, a parte i capelli che lasciamo stare col caldo, fanno quello che vogliono ma per la luce, perché sto usando la ring light ma è leggermente più in alto rispetto al solito quindi c'è un'illuminazione un po' diversa però almeno non avendocele vicinissimo posso fare a meno di accendere il condizionatore e abbiamo un rumore in meno di sottofondo non so se vedrete questo video mentre sono in vacanza o meno, perché dipende anche se riesco a finire di editarlo in tempo avevo intenzione di farlo appunto per non lasciarvi praticamente un mese senza video comunque vedremo, lo sapremo insieme scusate sto guardando ma io sul letto che spadiglia e il fatto che ogni volta che mi metto così mi si vedono le borsi tanto gli occhi che non ho in realtà ma vedete l'ombra, va bene allora, oggi volevo farvi vedere fare uno show and tell sostanzialmente di prodotti che quest'estate ho provato e mi sono piaciuti o meno io dico prodotti ma non voglio parlarvi solo di prodotti anzi volevo proprio iniziare con come si dice? con gli anime ecco allora dopo tantissimi di voi che mi hanno consigliato di vedere quest'anime alla fine ho ceduto e ho fatto un video per tre giorni e mi sono guardata le due intere stagioni di Attack on Titans vi voglio ringraziare immensamente perché ormai è una fissa mi è piaciuto tantissimo a parte qualche episodio che l'ho trovato un po' ripetitivo e troppo lento però in una serie insomma anche in una normalissima serie tv ci sono queste queste discese ma per il resto la storia mi è piaciuta tantissimo e niente quindi vi volevo ringraziare volevo anche consigliare una serie tv che ho guardato ormai in qualche mesetto fa e sto aspettando la nuova stagione sperando che bellisca comunque la serie tv si chiama The Man in the High Castle è tratta da un libro di Philip Dick mi pare spero di non sbagliare perché non l'ho mai letto che si chiama La Svastica sul Sole è una serie tv non leggera leggera perché comunque parla di un dopoguerra in cui è stata la fazione dei nazisti a vincere e è molto interessante perché è un continuo incrocio tra molti paralleli ed è veramente bello spero di non aver sbagliato l'autore del libro perché ormai sono andata a vederlo un po' di tempo fa andiamo avanti facciamo con dei prodotti buoni dai allora ho provato in questo periodo questa acqua profumata da quando ho scoperto le acque di Bath & Body ormai sono solo queste non ho profumi sostanzialmente questa si chiama Paris ed è buonissima l'ho presa in sconto adesso scusate e ha un profumo buonissimo io non sono capace a descrivere i profumi però è dolce ma non stucchevole e mi piace tanto e soprattutto resta tanto addosso non se ne va via subito quindi questa qua è consigliatissima soprattutto adesso che ci sono i soldi oddio adesso io sto parlando che sono i primi di agosto quindi non lo so poi oramai mesi fa ho comprato su AliExpress questi pennelli era da secoli che non compravo pennelli e ho trovato questo kit a 4 euro una cosa del genere di 7 pennelli allora e ora, sono dei pennelli a parte esteticamente carini perché hanno i glit ma sono veramente ottimi per quanto riguarda la qualità abbiamo un pennello abbastanza ampio che io di solito uso per la cipria questo qui questo che è il mio preferito che non saprei descriverlo ma mi piace tantissimo per il blush volendo anche per la terra, è ottimo poi c'è questo, non avevo mai provato un pennello simile ok, ottimo per l'illuminante madonna questa luce così non mi piace per niente comunque e poi abbiamo questi più piccoli questo che uso per le labbra buonissimo e questi per gli occhi principalmente di cui mi ho preferito questo è la sfumatura e niente, sono molto molto carini e buoni soprattutto diciamo che con i pennelli sono a posto almeno alla vita ecco prima di continuare con il beauty poi vi farò vedere qualcosa anche per il cosplay vi voglio parlare del mio videogioco preferito del periodo intanto Maia sta dormendo pietamente allora il mio videogioco preferito del periodo che non è una novità per me poiché è un videogioco a cui ho già giocato è Bioshock ci sto mettendo tanto a finire i tre videogiochi perchè faccio lunghe pause insomma tra una partita e l'altra ma è molto bello il mio preferito fra i te sarà e sarà sempre il primo il secondo è simile il terzo lo trovo alquanto differente sotto certi versi però insomma mi devo rinfrescare un po' le idee perchè è da un po' che non ci gioco adesso sto finendo il secondo, l'ho così finito bene, continuiamo e sempre con i prodotti buoni ecco che mi sono piaciuti abbiamo questi due che sono dei prodotti di Venti Beauty che ho trovato in un kit infatti sono mini size anche se sono mini size belle e grandi allora il primo prodotto è questo illuminante ah ecco vedete non riesco mai a farlo vedere nei video qui è la cancianza blu con questa luce si vede che si chiama Hasla Baby che si chiama Hasla Baby ed è un illuminante super dorato che se avete già di persa già naturalmente la carnagione è abbronzata comunque calda anche piuttosto scura direi che questo illuminante è perfetto io lo posso usare solo in questa stagione ed è super luminoso non ha tantissimi glitter io pensavo ne avessi molto di più e fortunatamente non ne ha tanti ed è bellissimo infatti adesso che parto questo probabilmente me lo porterò via la confezione è fatta anche molto bene è comoda si chiude bene e ha anche specchietto quindi buono 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 e poi abbiamo questo che è il Fenty Glow Gloss Bomb che è un lucido labbra è un lucido labbra universale ecco è un lucido è un lucido labbra molto corposo e perciò dura anche parecchio per essere un lucido labbra l'unica cosa che non mi piace è l'odore perché è un po' dolce artificiale però come qualità è veramente buona poi passiamo agli occhi io sugli occhi non sto usando tanto gli ombretti le uniche cose che uso vabbè a parte oggi che mi sono messo un po' di ombretto qui però insomma faccio cose molto semplici mi piace moltissimo utilizzare questi due prodotti o insieme o da soli insomma sono comodissimi e super resistenti e per questa stagione è perfetto ma anche per tutte le stagioni insomma allora il primo è un ombretto di Essence si chiama Metal Shock Eyeshadow io ho il colore Solar Exposure che è un ombretto di Essence Potion che è un ombretto di quelle in crema io sostanzialmente lo applico lo stent si fissa e basta ho finito è comodissimo comodissimo e poi questo che è il Vamp di Pupa nel colore 001 marrone io quotidianamente preferisco gli eyeliner marroni che è un ombretto di Essence Potion e niente è un eyeliner ottimo lo scovolino è comodo insomma mi piace tanto e consigliato anche questo bene passiamo invece anzi dai vi faccio vedere un altro prodotto buono poi non so se vi faccio vedere tutti perchè mi rendo conto di aver portato un po' tanta roba comunque questo qui che è un illuminante liquido di Make Up Revolution è ottimo l'ho usato anche sul corpo non solo sul viso quando puoi andare a un matrimonio è veramente carino io ho il colore liquid starlight poi l'ultimo promazzo per quanto riguarda il make up è questo rossetto che ho da un bel po' di tempo non può dire la verità ma ve lo volevo farlo vedere solo perchè ve lo chiedete tantissimi quando l'ho indossato io non voglio dividere forse è un rossetto liquid di Mulac che si chiama Hot Stuff ed è un bellissimo colore che io adoro mettere d'estate questo se lo volete vedere indossato se mi ricordo devo ricordarmi ve lo lascio nelle informazioni è stupendo in questo periodo sto rivalutando molto i rossetti lucidi per quello vi ho fatto vedere il gloss passiamo invece a altre cose che mi sono piaciute ovvero questa lente a contatto che ho usato per il cosplay di Shiro e le ho comprate su Unixle le ho comprate io e sono della linea Sweetie sempre che è una delle mie preferite insieme ai Codi mi sembra si chiami comunque sono tipo i color sostanzialmente e mi pare si chiamino tipo Sweetie Anime hanno questa parte più giallina questa più arancione e indossate danno veramente un effetto occhio da cartone animato ecco passando invece alle cose che non mi sono piaciute allora anzitutto queste lenti qui che ho comprato che ho comprato un po' di tempo fa su Amazon da una marca che si chiama non me lo ricordo ma oddio comunque sono le lenti che ho usato per Duka e le uniche lenti rosse che ho ma devo cambiarle assolutamente sono quelle non so come farvi vedere sono lenti rosse non graduate meglio quelle che ho fatto vedere prima sono graduate ma il fatto è che sono scomodissime perchè sono spesse troppo spesse e l'occhio almeno il mio non riesce ad abituarsi assolutamente quindi non riesco a ricordarmi il nome aspettate magari lo cerco ah Fonsera eccolo si sono della Fonsera e no io non faccio fatica a portarle soprattutto dopo aver provato quelle della Sweetie vorrei farvi vedere a Maya che dorme comunque no passiamo con gli ultimi prodotti che non mi sono piaciuti in questo caso di trucco il primo è purtroppo questo eyeliner di neve che si chiama Ajezut il colore è stupendo il colore è il colore è il pennellino non mi piace per niente perché fa delle strisciate bruttissime e non va bene per il tipo di pasta che ha questo eyeliner perciò lo uso praticamente come matita sfumata sfumata e così mi piace molto come eyeliner è troppo impreciso questo qui che ha marrone diverso cioè più rossastro vedete poi l'ultima cosa che non mi è piaciuta sono queste matitte della Kiko quelle automatiche che hanno il temperino qui e poi ecco non mi piacciono perché nel giro di un mese si sono seccate e non scrivono più tutte e due quindi sono giunta alla conclusione che per ora Kiko non riesce a fare bene questo genere di matita e niente con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto anzi vediamo se riesco per farvi vedere Maya che dorme nooo nooo no o no 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 Grazie. 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 Ciao, come sei bella, ma sei bellissima, ma sei stupenda, salutiamo, ciao ciao Grazie a tutti